Sistema assistenza frenata attivo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la sicurezza alla guida debba essere sempre al primo posto. Ecco perché il sistema di assistenza alla frenata attivo è una funzione essenziale per evitare incidenti e prevenire danni a voi stessi e agli altri utenti della strada. Purtroppo, può succedere che questo sistema non funzioni correttamente. Se avete notato la comparsa di una spia di errore sul cruscotto o una mancata attivazione del sistema quando avvicinate l'auto a un ostacolo, potreste avere un problema con il sistema assistenza frenata attivo non funzionante su Smart. Questo è un problema serio e non può essere ignorato. La vostra sicurezza alla guida è la nostra priorità. Per questo motivo, nel nostro video vi mostreremo tutte le soluzioni possibili al problema del sistema assistenza frenata attivo non funzionante su Smart. Vi guideremo passo dopo passo nella risoluzione del problema. Dal controllo del manuale di istruzioni del veicolo fino alla diagnosi del problema da parte di un meccanico specializzato in Smart. Siamo qui per voi e vogliamo che guidiate in sicurezza. Non c'è niente di più importante della vostra incolumità e quella degli altri utenti della strada. Quindi, se avete notato un malfunzionamento del sistema di assistenza alla frenata attivo sulla vostra Smart, non esitate a guardare il nostro video e seguire le nostre indicazioni per risolvere il problema. Non c'è niente di più importante della vostra sicurezza alla guida. Guardate il nostro video per scoprire come risolvere il problema del sistema assistenza frenata attivo non funzionante su Smart e guidate in sicurezza. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.